Il mio appello ai palermitani è quello il 12 giugno di andare tutti a votare. Ricordarsi che il diritto del voto è il principale diritto che la democrazia, che la nostra Repubblica mette nelle nostre mani e deve essere esercitato assolutamente e con grande consapevolezza. Abbiamo fra pochi giorni l'opportunità di scegliere un sindaco che rappresenti la nostra città e che dia davvero una svolta al presente e al futuro della nostra città, di questa meravigliosa Palermo che tutti amiamo. Ma possiamo scegliere fra la continuità in un modo più o meno chiaro rispetto al passato, attraverso la scelta di candidati che appartengono ai classici schieramenti ai partiti tradizionali, oppure dare il voto a qualcuno che ha dimostrato con i fatti la propria indipendenza. Ecco, io vi chiedo di giudicare dai fatti, giudicare dalle azioni e credo che mai, come oggi, sia importante valutare la coerenza di ciò che si dice, il coraggio di difendere le proprie idee e difendere i valori in cui si crede da qualsiasi attacco, senza paura di alcuna possibile strumentalizzazione e di alcuna possibile conseguenza. Io credo di avere dato ampia dimostrazione di avere il carattere, il coraggio, le capacità e le competenze per potermi assumere la responsabilità di accompagnare Palermo e palermitani verso un obiettivo di rinascita, di riscossa, di riscatto per la dignità di tutti coloro che si sentono orgogliosamente palermitani, hanno il diritto di esserlo e quindi sarò davvero felice ed onorata se mi darete questa possibilità, se coglierete il 12 giugno questa occasione di grande cambiamento e credo che questo segnale per tutta l'Italia sarà l'inizio di un nuovo corso.